buongiorno ai robin hood del mondo intero come vedete sono in un luogo paradisiaco e spero di condividerlo un po con voi in questi tempi così difficili allora ovviamente non ci sono che delle buone notizie sospetto che aerei pieni di bambini siano stati portati agli incontri di davos si tratta di sospetti che spesso si avvicinano alla realtà nei link vi metto anche un articolo interessante preparato dal gruppo quinta colonna sono spagnoli dove ci sono diversi partecipanti parla di graffene di quello che ne sappiamo in relazione alle iniezioni ma anche di graffene accoppiato al 5g e questo da come risultato degli impianti io ho visto gli impianti so cosa sono gli impianti e ci sono chirurghi che negli stati uniti erano specializzati nella rimozione di questi impianti piccoli impianti metallici è la stessa composizione quindi vedrete questo articolo in un link spero che possiate approfittarne tutti ovviamente non potrò metterlo su tutte le reti né su tutti i media quindi spero che lo troverete nel posto giusto come al solito cosa c'è di altro ci sono anche ottime notizie per fortuna perché ci sono sempre cittadini persone esseri umani semplicemente che fanno cose belle ad esempio in corea del sud c'è stata l'abolizione una legge che abolisce il consumo di cani e questo grazie a un'associazione che ha lavorato duro e che ha finito per ottenerlo ci vorrà un po di tempo per riqualificare professionalmente le persone che macellavano i cani che li facevano bollire eccetera ma detto questo la legge è passata e penso che sia bellissimo poi un'altra persona un villaggio che si riscalda con una pianta vedrete perché vale la pena guardarlo è davvero interessante ci sono molte iniziative quindi quando dico che gli esseri umani sono capaci sono intelligenti hanno idee vedrete cosa intendo c'è un altro articolo che mi ha toccato e che metto nei link è un uomo che ha deciso lui è un musicista e ha deciso di suonare per gli elefanti per degli elefanti ciechi e gli elefanti lo ascoltano deve aver pensato che come per gli umani quando sei cieco può darsi che il tuo udito sia più sviluppato non so se lo pensava ma in ogni caso grazie a quest'uomo ci sono elefanti che vengono e ascoltano tutta questa musica che lui suona per loro soprattutto per loro non so se ricordate un reportage su un uomo tempo fa che è morto in africa e che era un grande difensore degli elefanti e il giorno in cui morì ci furono centinaia di elefanti che arrivavano da ogni parte e che vennero a salutarlo salutare il suo corpo la sua anima non so comunque sono venuti a salutarlo è un po come se fossimo nel processo di passare ad altre cose in questo momento quindi sono molto ottimista perché c'è molta gente che si sta svegliando e inizia a mettere a frutto il proprio potenziale al servizio dell'umanità dell'umano del bello quindi questo è molto bello siamo innaffiati da cattive notizie l'acqua inquinata ci sono truffe come Nestlé per esempio ricordate nel documentario che abbiamo fatto il coraggio al servizio del vivente dove una delle persone principali della Nestlé raccontava di come gli sia stato impedito di lavorare e che si occupava appunto di sicurezza alimentare quindi ci rendiamo conto che c'è acqua su questa notizia recente che non è assolutamente potabile che viene imbottigliata ma nonostante tutto ciò trovo che comunque ci sono belle cose c'è qualcos'altro di cui volevo parlarvi e attraverso il libro di Covlea abbiamo trovato un episodio di cui avevo già sentito parlare molto tempo fa era durante la guerra nel libano e c'è stata un'esperienza che è stata fatta con i caschi rosa cos'erano questi caschi rosa erano persone che attraversavano i più difficili e più complicati dove c'era il maggior conflitto più guerra e va detto che erano persone che erano abituate a visualizzare e visualizzavano passando da lì come se la pace fosse già lì e si sono accorti che la pace in effetti era molto più impressionante in questi luoghi che ci sono stati dei conflitti che si sono fermati e che beh in ogni caso era molto meno che altrove quindi vedete questo esperimento è molto interessante perché questo significa che ognuno di noi è una piccola luce e che se dove passiamo portiamo la pace mettiamo un sorriso mettiamo l'amore portiamo un po di gioia possiamo conquistare tutti i cuori c'è un'altra cosa che mi sembra altrettanto importante è che qualche notte fa ho viaggiato su altri piani e questo viaggio mi ha portato verso un collegio verso un'assemblea diciamo di esseri che avevano insegnato sulla terra i grandi insegnanti vale a dire tutti i grandi insegnanti della terra erano lì non ero solo ovviamente tra gli invitati eravamo in 108 e ce ne sono anche altri che saranno invitati ma questo ve lo mostrerò ne scriverò tra qualche tempo e quello che è stato detto e che è importante c'era anche il grande ma del pianeta terra che era lì perché secondo lui questo momento cruciale e che tutti proprio tutti dobbiamo svegliarci e tutti agire quindi mi è stato chiesto questo piccolo libro che sto scrivendo e che sarà quindi a vostra disposizione ma quello che è stato detto è che ombra e luce l'ombra ha lo stesso diritto di vivere della luce ha lo stesso diritto di esistere e che non è assolutamente malvagia che è benefica ma è perché ha preso veramente troppo spazio in relazione alla luce e che è perché è stata utilizzata in modo dannoso che diventa malvagia tecnicamente abbiamo bisogno di entrambe non possiamo fare l'uno senza l'altra non possiamo creare ombra senza luce come il giorno senza la notte sono elementi della stessa forza e questa forza è amore quest'ombra ci permette l'introspezione ci permette di stare con noi stessi di svegliarci di chiederci cosa faremo cosa dobbiamo fare cosa bisogna fare cosa vogliamo fare quindi non è qualcosa contro cui possiamo combattere ma è stato detto anche ecco lo dico con le mie parole evidentemente che è assolutamente necessario aumentare la luce non possiamo combattere l'ombra non possiamo combattere ciò che è un meno non so bene come spiegarlo ma credo che sentite che sapete di cosa parlo non possiamo combattere ad esempio una batteria scarica ma possiamo mettere una nuova batteria e questo in effetti è ciò che dobbiamo fare ed è davvero adesso muoviamoci facciamo tutto il possibile e non occorrono grandi mezzi non dobbiamo sederci come gli yogi non dobbiamo avere una stanza speciale non abbiamo bisogno di candele intorno a noi lo stesso vale per la comunicazione con gli esseri della natura ma di questo vi parlerò più tardi o per comunicare con gli animali è già sufficiente volerlo in noi dopo il viaggio sarà più o meno facile questo non ha importanza in ogni caso questo è quello che volevo davvero dirvi non combattete aumentate la luce aumentate il potenziale luminoso in modo che non ci sia più questo squilibrio è come quando c'è uno squilibrio nel nostro corpo in quel momento c'è una malattia c'è uno squilibrio tra ombra e luce e sta a noi ripristinare l'equilibrio dentro di noi in modo che possa ristabilirsi anche all'esterno questo è quello che avevo davvero voglia di dirvi quindi vedrete le buone notizie qualcuna un po meno buona ma soprattutto non preoccupatevi perché per me siamo già davvero sulla via d'uscita di qualcosa di completamente nuovo e questa terra sarà bellissimo ecco in ogni caso grazie di esserci di esistere e spero di ritrovarvi al congresso di marzo a limoghe che sarà un evento grandioso e spero di avere il di vedere molti robin hood fra il pubblico a presto